Caro saluto a tutti gli amici della tenda TV e di Radioplazio. Cari che ci stanno seguendo in questo istante, buon sabato dell'ottava di Pasqua, benvenuti a questa nuova puntata sulle orme del Maestro. Cominciamo con la nostra preghiera che ci predispone all'ascolto della parola di Dio. Dio della luce manda su di noi il tuo spirito affinché attraverso l'ascolto delle scritture riceviamo la tua parola, attraverso la meditazione cresca in noi la conoscenza di te e attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di Gesù Cristo tuo figlio che vive a regna con te lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Oggi la liturgia ci offre un brano del Vangelo secondo Marco, precisamente al capitolo 16 versetti da 9 a 15. Il contesto ovviamente è sempre quello pasquale dopo la risurrezione dunque di Gesù e ci presenta ancora una volta il racconto di una delle apparizioni del risorto ai discepoli. Risorto al mattino il primo giorno dopo il sabato Gesù apparve prima a Maria di Magdala dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questo andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto ma essi udito che era vivo e che era stato visto da lei non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Il contesto come tutti i brani evangelici di questa settimana e come un po' già annunciato è quello dei racconti delle apparizioni del risorto. Qui ci troviamo nel Vangelo secondo Marco il più breve dei quattro Vangeli e quello che è anche meno materiale per quanto concerne la risurrezione di Cristo. Se stiamo proprio al materiale a disposizione del Vangelo di Marco troviamo due capitoli molto corposi che narrano la passione di Cristo e un capitolo molto snello che parla invece della risurrezione. È molto interessante questo. Ricordo un teologo che diceva che cosa sono i Vangeli in realtà. I Vangeli sono fondamentalmente una narrazione della passione e risurrezione di Cristo con una lunga introduzione. Come a dire ciò che sta a cuore comunicare agli evangelisti è proprio il cuore della vicenda di Gesù, la sua morte e risurrezione con un'accentuazione molto forte della morte, quasi a sottolineare la realtà di questa morte. Una morte dai colori e dalle tinte molto forti in cui il Figlio di Dio si è coinvolto profondamente con la storia sofferente dell'umanità. Questo è il dato direi più evidente e più forte che si evince. La risurrezione diventa il luogo in cui questa passione e morte di Cristo trova il suo significato profondo e non è necessario, stando magari alla narrazione di Marco, aggiungere troppi tratti descrittivi. Basta comunicare questa novità assoluta della risurrezione di Cristo senza indugiare nella descrizione dei particolari. Tornando al brano che abbiamo ascoltato, Marco sembra fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, scusate questa espressione, ma per dire le principali apparizioni che si sono date le richiama una a una. Innanzitutto l'apparizione del risorto a Maria di Magdala, di cui parla ampiamente Giovanni, l'abbiamo già commentato qualche giorno fa. Marco ancora ricorda l'episodio dei discepoli di Emmaus che troviamo tra l'altro non nel Vangelo di Marco ma narrato in modo ampio nel Vangelo secondo Luca e poi ricorda l'apparizione agli undici. Apparizione che è testimoniata sia da Matteo, sia da Luca, sia da Giovanni e non da Marco. Questa apparizione non viene diffusamente narrata nel Vangelo secondo Marco, la dà un po' per scontata. Sembra quasi che per Marco non sia veramente necessario dire molto della risurrezione di Cristo. Basta l'annuncio, basta sapere che si è rivelato ad alcuni testimoni e quindi non è necessario dire di più. È forse anche questo il principale significato del brano di oggi perché avete sentito l'insistenza su questo innanzitutto non credettero. Avete sentito Maria di Magdala che annuncia la novità della risurrezione di Cristo ma a questa non credettero. Poi Marco ricorda i due discepoli di Emmaus e anche in questo caso gli altri discepoli non credettero. Sembra quasi voler sottolineare questa durezza di cuore della comunità cristiana degli inizi. Non si fida della Maddalena, questa comunità degli inizi non si fida della Maddalena, non si fida dei due discepoli di Emmaus e continua in qualche modo a dubitare. C'è bisogno di qualche cosa di più e finalmente questo qualche cosa di più avviene nel senso che Cristo appare agli undici tutti riuniti e successivamente anche si mostra ancora questa comunità cristiana degli inizi. Però Gesù in questo caso è piuttosto duro, è piuttosto severo con questa incredulità di questi discepoli e in questo potremmo vedere direi un rimprovero diretto senza dubbio agli apostoli e alla comunità degli inizi ma anche un rimprovero rivolto alla comunità cristiana di ogni tempo che non si fida dell'annuncio dei testimoni. L'annuncio dei testimoni arriva a noi grazie alla parola del Vangelo, è il Vangelo che ci fa da tramite, da collegamento tra noi e la parola dei primi testimoni. In qualche modo è come se Gesù anche un po' riprendesse pure noi tutte le volte in cui dubitiamo, non ci fidiamo della testimonianza che ci viene offerta tramite il Vangelo di questi testimoni della prima ora. E' quindi una parola di stimolo che ci viene rivolta per avere più fiducia, per avere maggiore capacità di accoglienza della testimonianza di questi testimoni privilegiati da un certo punto di vista e anche testimoni che ci permettono proprio di avvicinarci al mistero della resurrezione della Pasqua di Cristo. Quindi sentiamolo un po' rivolto anche a noi questo rimprovero di Gesù nei confronti dei suoi, della comunità degli inizi e al tempo stesso sentirlo anche come uno stimolo ad avere più fiducia e a credere di più nella sua parola e soprattutto nella parola dei testimoni che egli appunto ci ha lasciato. Un'ultima considerazione, mi avvio a concludere questa riflessione. Il Vangelo di Marco dopo queste considerazioni sull'importanza dei testimoni e sull'importanza di credere alla loro parola punta dritto verso un'altra cosa molto importante, vale a dire il mandato. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi si conclude così, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. È il mandato missionario che Gesù affida ai suoi discepoli, a questa piccola comunità, ma lo affida anche a noi. Il Vangelo, e questa mi pare una cosa molto molto bella, molto significativa, il Vangelo non è stato annunciato da Cristo perché sia custodito gelosamente nel cuore di qualcuno, come è un fatto puramente personale. Il Vangelo ha una portata esplosiva in sé, è un contenuto che deve essere vissuto innanzitutto da chi lo riceve e al tempo stesso anche portato agli altri. Non a caso Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, dice che i cristiani devono essere dei discepoli missionari, quasi formando una parola unica, discepoli missionari. Non puoi essere discepolo se non sei anche missionario e ovviamente non puoi essere missionario se non sei stato prima anche e continui ad essere discepoli di Gesù. Le due cose sono strettissimamente legate. Mi pare una cosa molto bella perché dice che la dimensione universale del messaggio cristiano non è fatto solo per alcuni, neanche per un contesto culturale particolare, bensì è fatto per tutti. E in secondo luogo è Vangelo, cioè è buona notizia. Il cristiano è un discepolo missionario che porta nel mondo qualche cosa di positivo, di bello. In che cosa consiste questa cosa positiva, questo annuncio buono che il Vangelo porta con sé. L'abbiamo meditato in questi giorni, ad esempio che Cristo ha vinto la morte e dunque la morte può essere sconfitta, che Dio è padre di tutti e che noi siamo chiamati a vivere tra noi relazioni di fraternità. Questa è un po' in sostanza la novità del Vangelo. Il Vangelo rivela all'uomo una prospettiva nuova nei confronti del significato della vita, della morte, nei confronti del modo in cui egli vive il rapporto con chi gli sta vicino, con chi è il suo prossimo. Sono contenuti e dimensioni esperienziali molto importanti, veramente da annunciare, da vivere e da annunciare a tutto il mondo. Concludo questo percorso di questa settimana ancora una volta con una breve preghiera, invitando a riflettere un po' sulla novità, sulla bellezza del Vangelo. Potrei lasciare questo spunto in questa giornata, sabato dell'ottava di Pasqua, quanto per me il Vangelo è davvero una buona notizia, in quali aspetti, perché lo sento così, e quanto al tempo stesso mi sento anch'io discepolo missionario chiamato a portare l'annuncio del Vangelo alle persone che incontro e con le quali vivo. O Padre che nella Tua immensa bontà estendi a tutti i popoli il dono della fede, guarda i Tuoi figli di elezione, perché coloro che sono rinati nel battesimo siano rivestiti dell'immortalità beata e annuncino il mondo la buona notizia del Vangelo, per Cristo nostro Signore. E su tutti la benedizione di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E con questa puntata si conclude il mio percorso con voi in questa settimana dell'ottava di Pasqua. Auguro di cuore buona Pasqua ancora a ognuno di voi. Da lunedì prossimo sarà con voi Don Andrea Forest. E ancora una volta grazie di questa opportunità e a risentirci a prossime puntate, a altre occasioni in cui avremo modo di incontrarci e ascoltarci. Tanti auguri ancora Don Alessio Magoga, Direttore dell'Azione. Grazie a tutti.